Femo, vado. È domenica. Vai. Stai ricordando? Sì, stava ricordando. Stavo già ricordando. Ciao, ciao. Fai così. Così si è proprio messo in pausa. No, no, va bene. Le lampeggia e si è fermato. Adesso così. È in attesa. Lo rischiacci. Secondo il limite affisso, registra. Fatti a me? Vani. Sì. 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 Sì.